Ciao ragazze e ciao ragazzi, stasera video outfit sabato sera e sto per scendere è un sabato sera estivo abbastanza caldo, non troppo partiamo dal viso allora ho fatto una base molto leggera, ho mischiato, ho miscelato la mia crema di datante con il fondotinta e quindi ho creato questa base molto leggera e luminosa perché su questa è una da spolverare anche le meteorite di Gorlon ho creato un trucco blu e azzurro e ho lasciato le labbra luminose ma rosa, molto tranquille come accessori per capelli ho messo un cerchietto con una farfallina celeste e accessori bijou, sempre cuore a metà e fedina all'abbraccio ho il mio orologio che fa bordello, un bracciale turchese della Turchia e una collana lunga a forma di chiave in oro rosa adesso ho messo un top bello luminoso, celeste, semplice, a parte tutta questa lavorazione la dietro è semplice con le bretelline e giù una gonna celeste con fiori svolazzanti che arriva, oddio, poco sopra il ginocchio che ha l'unica particolarità sfiziosa che è questa striscia in tessuto jeans ai piedi ho deciso di indossare scarpe basse sempre sul celeste è il colore predominante dell'outfit che hanno questo patacone sul collo del piede come borsa per riprendere la cinta della gonna di jeans ho voluto mettere questa borsa di jeans con dettagli dorati sempre di media grandezza, non porterei mai cosciettine per scendere perché ci butto troppe cose dentro, anche se è un sabato sera o un po' sera quindi questo è il mio outfit per questa serata festiva vi dando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi e ciao ragazzi in gamba